Ci troviamo all'interno del Palazzo della Regione Toscana per andare ad iniziare una nuova puntata di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Molti gli argomenti dibattuti in questo settembre, in questo Consiglio regionale che ha chiuso di fatto questo mese, se ne riparlerà con le prossime sedute proprio ad ottobre, ma come detto molti temi e dunque andiamo subito a vedere quelli che andremo a toccare quest'oggi. Passa la mozione sullo Iuscole, il sì della maggioranza è 5 stelle, il centrodestra dice no. La Toscana si candida alle Olimpiadi 2040, arriva il sì del Consiglio regionale. Approvato il bilancio consolidato 2023. Novità per le piccole imprese su sfalci e potature e in alcuni casi potrebbero essere paragonate a privati cittadini. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dalla consigliera PD Anna Paris, che chiede alla giunta regionale di attivarsi presso il Parlamento affinché in tempi rapidi vengano calendarizzate le proposte di legge in merito allo Iuscole. Il Consiglio con questa approvazione chiede di fatto di rivedere dunque la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, in particolare riferimento a bambini nati e cresciuti in Italia che abbiano effettuato le scuole nel nostro paese. La proposta ha trovato il favore di PD, Italia Viva e 5 Stelle. Contrari, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ha stenuto il gruppo misto. Nasce tutta questa mozione dal dibattito di quest'estate, dalle parole dell'Onorevole, del Vicepresidente Tajani, che dalle sue parole era evidente la scelta di portare avanti, la volontà di voler portare avanti lo Iuscole come possibilità per l'acquisizione del diritto di cittadinanza per i minori, vero Iuscole 5 anni, sicuramente cultura, invece vediamo oggi in aula che Forza Italia vota contro proponendo, dicendo che allora ci sarà una proposta di Forza Italia a livello di Parlamento, ma leggiamo pure dallo stampa che sembra che forse nel 25, insomma un'opportunità persa. Noi insistiamo, perché? Perché i tempi sono cambiati rispetto al 1992 e la normativa che attualmente abbiamo in vigore sono più di 30 anni e l'Italia è molto cambiata. Iuscole, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo, probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico che negli ultimi dieci anni, partecipando alla vita governativa di questo Paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. Io credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. Dare la cittadinanza ai ragazzi che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un Paese in cui si vive. Niente può fare meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. Altro tema all'ordine del giorno è stato quello della candidatura della Toscana alle Olimpiadi del 2040. La mozione per sostenere la candidatura è stata sollevata dal consigliere di Italia Viva Scaramelli e ha trovato il sì di tutta l'aula ad eccezione del Movimento 5 Stelle che ha votato contro. La regione dunque si impegna a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le altre province ad ospitare i giochi olimpici. Un'edizione dunque dedicata ad una Toscana diffusa, Alvia Liter, che dovrà coinvolgere coni, comuni e governi. La Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Il Consiglio regionale, con una larga intesa e ringrazio, ha votato a favore alla mia mozione che chiede che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione, quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del Senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Bisogna provarci, intanto il concetto di Olimpiadi diffuso ormai è un concetto consolidato, tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra Lombardia e il Veneto, le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana e quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi, non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze, pensate a delle manifestazioni, giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscana, pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore, pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare a Piombino, davanti a Livorno, insomma nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba. Io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la regione toscana che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi. Mancano le infrastrutture, mancano gli stradi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture. Per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario. Non è un caso che l'obiettivo è il 2040. 16 anni, in 16 anni bisognerebbe fare tutta una serie di infrastrutture come è stato giustamente sottolineato, io direi che alcune infrastrutture vanno fatte indipendentemente dalle Olimpiadi perché investire nello sport è fondamentale. Penso che le condizioni ci siano, noi abbiamo già perso in Italia due grandi opportunità, Roma 2020 e Roma 2024 perché la politica non ha saputo scegliere, non ha saputo decidere di investire in quella direzione. Quindi bene ha fatto il Presidente Gianni, ha l'Assemblea legislativa che lo sostiene con forza, ora penso sia il tempo di incontrare anche il Governo, il CONI, di provare a costruire insieme questa proposta. Sarebbe uno dei regali più belli che potremmo lasciare alle nuove generazioni toscane. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha toccato anche il tema del bilancio consolidato 2023, cioè quel bilancio che guarda i risultati finanziari della Regione più le società e gli enti considerati rilevanti. 25 enti strumentali controllati e loro società partecipate indirette, 9 invece gli enti strumentali partecipati, 9 società controllate e le loro partecipate indirette, 4 le società partecipate. Il valore complessivo della produzione è aumentato di 450 milioni rispetto all'anno precedente. Tutte le società e gli enti hanno realizzato un risultato di esercizio positivo ad eccezione di Toscana Sviluppo. L'ok è arrivato con i voti favorevoli di PD e Italia Viva, mentre i contrari Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Gruppo Misto e 5 Stelle. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività che sfiora ai 12 miliardi. Di questi, oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico della gestione 2023 ci consegna un dato positivo per circa 90 milioni di euro che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio della situazione patrimoniare. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla regione toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario regionale. Ecco, ciò nonostante la situazione complessiva degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato, è una situazione positiva. Sì, il bilancio consolidato della regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni. Termini Montecatini e SPA, la società che ha il 70% di quote da parte della regione toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di sviluppo toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente, quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento, perché avremmo invece avuto la possibilità con una tempistica diversa di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più alto. L'ultimo argomento di questa puntata è quello riguardante la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri per le imprese per il conferimento dei residui di sfalci e potature. La mozione, passata in aula a maggioranza con 19 sì e 9 astenuti, porta la firma di Vincenzo Ceccarelli e si pone l'obiettivo di classificare i rifiuti da sfalcio in base alla loro provenienza e non in base a chi li conferisce, andando di fatto a dare la possibilità alle piccole aziende di togliere gli oneri da scarico al pari dei comuni cittadini. È una mozione che ha l'obiettivo di semplificare la vita a tanti cittadini e a tante piccole e piccolissime imprese. Infatti oggi gli sfalci da potatura, il taglio dell'erba di un giardino se fatto direttamente dal proprietario o dall'affittuario del terreno può essere considerato un rifiuto urbano e essere conferito al cassonetto. Se invece la stessa persona chiama il classico giardiniere per fare quegli sfalci e quelle potature, cioè quello che ne risulta non è classificabile come rifiuto urbano e deve essere smattito verso centri di raccolta che tra l'altro sono anche non molto numerosi in Toscana. Quindi questo è veramente un aggravio burocratico e anche un po' uno scarso senso perché il materiale è lo stesso a seconda di chi è stato trattato cambia la sua classificazione. Noi chiediamo che ci sia un impegno attraverso la conferenza delle regioni affinché possa essere modificato o meglio interpretato il codice ambientale che in tre articoli appunto fa eccezione per quanto riguarda i tagli che vengono fatti anche da imprese qualora il materiale risultante sia utilizzato per l'agricoltura, la selvicoltura, quindi magari per concimare oppure per alimentare come materiale da biomasse gli impianti appositi. Ma continua invece ad essere rifiuto speciale se una piccola azienda fa il suo lavoro e poi per smaltirlo deve addirittura trasportarlo con mezzi che hanno il codice idoneo per il trasporto di questi sfalci e poi andare a ricercare questi impianti di conferimento che a volte sono lontani chilometri e chilometri. È tutto da Cronache e Commenti, grazie di averci seguito l'appuntamento e alla prossima puntata, cioè la prossima settimana.